Dopo oltre 20 anni di attesa è stato approvato dal Consiglio regionale il piano regolatore portuale di Giulianova. Un'importante notizia per lo scalo giuliese, unico di diretta competenza della regione, che finalmente si munirà dello strumento di pianificazione che ne definisce l'assetto individuo, le caratteristiche e la destinazione delle aree. Uniter che è iniziato nel 2000 e che questa giunta ha ripreso e ha portato a compimento in un paio di anni. Io devo ringraziare tutti gli uffici, devo ringraziare l'Indeporto per la collaborazione, perché con l'approvazione di questo piano regolatore del Comune di Giulianova si apre una fase nuova, una fase che potrà consentire lo sviluppo turistico e anche commerciale del porto e soprattutto il suo collocamento con la città, perché non dimentichiamo che il porto di Giulianova non è un porto a parte, ma è un porto che entra nella città, è il porto della provincia di Teramo. Grazie all'adozione di questo importante strumento di programmazione sarà possibile completare diversi interventi. Ci sono due interventi già finanziati per 3 milioni e 800 mila euro che riguardano il prolungamento del Molo Nord per 87 metri e la rifioritura delle scoliere del Molo Sud da protezione della struttura. Insieme a questo sono già stati fatti degli interventi durante il 2022, come ad esempio le torri Faro che abbiamo trovato in condizioni di scarsa sicurezza e che abbiamo sostituito completamente. Quindi ulteriori risorse all'Indeporto per quanto riguarda la manutenzione ordinaria all'interno dell'area portuale per un importo di 200 mila euro. Quindi belle risorse a disposizione del porto di Giulianova che rimane adesso il porto regionale e il porto della provincia di Teramo. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente dell'Ente Porto di Giulianova, Fabrizio Ferrante. Uno strumento che dà le linee guida per la crescita del porto, per la nascita di nuove attività, per lo sviluppo infrastrutturale. Grazie al piano regolatore oggi le opere che verranno terminate da qui a breve avranno rapida soluzione. Per noi il 2023 sarà l'anno della svolta perché finiranno tantissime opere infrastrutturali e miglioreremo sicuramente i servizi sia per il diporto che per la pesca.